Parte dai cittadini di Quarto un'iniziativa del tutto spontanea che testimonia l'impegno di una fetta della popolazione a voltare pagina con lo stereotipo di una città avvilita dai problemi legate ad attività illecite e che intende affermarsi come comune e anche virtuoso che sa esprimere talento ed orgoglio per la legalità. Sono molti cittadini che questa mattina hanno deciso di sfilare tra le strade di Quarto con un cartello dove sono stati segnati il nome, la professione e una frase uguale per tutti. Orgoglioso di vivere a Quarto e non sono un camorrista. Da tempo oramai siamo marchiati come città in cui cresce solo il fenomeno criminale, denunciano i cittadini, ma Quarto non è solo questo. Questa è la risposta dei cittadini quartesi alla campagna mediatica che li ha visti coinvolti per l'allenamento della Nazionale di Calcio, allorquando si sono sentiti offesi dalle descrizioni di alcuni mezzi di informazione che hanno stigmatizzato la cittadina flegrea solo come teatro di attività illegali. L'idea viene successivamente alla venuta della Nazionale qui a Quarto del 14 ottobre, un evento storico per noi importantissimo che ci rilancia verso una veduta differente per il futuro. Però diciamo che le televisioni nazionali hanno un pochettino strumentalizzato questo evento, classificando Quarto un pochettino come Scampia, non la togliendo alle persone di Scampia, però comunque Quarto non è fondata principalmente sulla Camorra. Le attività economiche di Quarto non sono basate sulla Camorra, ci sono realtà veramente promettenti. Abbiamo raccolto un po' il malcontento dei cittadini e quindi è venuta fuori questa iniziativa proprio per dimostrare che noi cittadini siamo contro la Camorra e siamo per una città migliore. Gli azzurri guidati dal capitano Gianluigi Buffon si sono allenati sul rettangolo di gioco di Via Dante a Lighieri, con la squadra della nuova Quarto Calcio per la Legalità, confiscata al clan dei Polverino e attualmente club calcistico, simbolo della lotta alla criminalità organizzata e al racket. Lunedì scorso allo stadio Gianrusso c'è stata la testimonianza di un'iniziativa piena di orgoglio, cui hanno preso parte molti cittadini che agiscono nella legalità e che hanno contribuito a realizzare una festa piena di entusiasmo. Tutti i tifosi e cittadini onesti di Quarto che hanno gioito nel vedere tanto calore e scrivere una delle pagine più belle della storia della città. La venuta della nazionale serve a questo, serve a non abbassare i toni, serve ad attirare l'attenzione di alla gente per bene. Io sono convinto e quello che noi condividiamo come associazioni, come Forze Sane insieme a Quarto Punto Zero, che parlando si riesce a sconfiggere. La venuta della nazionale ovviamente ha alzato il tiro ed ha alzato i malumori di coloro che erano soggetti soprattutto collusi. Io direi di enfatizzare soprattutto l'attenzione e i risultati che si stanno ottenendo anche nei confronti dell'amministrazione e della gestione commissariale che prende in considerazione e valuta anche le nostre proposte, comunque ne discute. Noi oggi ci troviamo di fronte a delle conseguenze molto gravi che sono scaturite dall'ingerenza del malaffare. Un territorio sicuramente che non può essere etichettato come malavitoso ma che ha subito ovviamente il predominio della malavita al punto tale che oggi stiamo vivendo lo sfascio della multiservizio, il fallimento, conseguenze sulla gestione dell'acqua, conseguenze sulla gestione dei rifiuti. Ma questo sia a livello territoriale ma a livello regionale. Queste appunto sono le conseguenze della prevalenza del malaffare ma non vuol dire che il nostro territorio è un territorio di malaffare e malavitoso ma semplicemente è un territorio che ha subito questi fenomeni. Una città desiderosa di riscatto e questo ciò che quest'iniziativa intende sottolineare risale allo scorso marzo lo scioglimento del Consiglio Comunale di Quarto ad opera del Consiglio dei Ministri in base alla normativa antimafia ma oggi Quarto è pronta a voltare pagina.